ciao ragazzi ciao ragazzi oggi book bang se quello quattro denti che ho in bocca il cameraman dorme io sono qua per fare la mia prima il primo che venga da sola guardate qui pasta al forno pasticciata perché a me non piace il ragù non sono fatta allora ho fatto spinaci bolliti poi ci succe dentro un po di bologna bologna però un bologna strano perché è bologna vegano poi cosa che ho messo dentro la besciamella che ho fatto io le sottilette e poi la sfoglia che ho preso la panna diciamo che questo è l'avanzo di pasqua ecco detto tutto con questo bellissimo piatto ho pochissimi piatti perché è successo un incidente i piatti li mettevamo tutti quando li laviamo li mettiamo uno scola piatti no come tutti un giorno una sera praticamente cosa è successo abbiamo sentito un botto terrificante un caso rotto ma non so ci siamo alzati perché eravamo letto cosa è successo è che hanno sono caduti tutti i piatti dalla dallo scola piatti perché lo scola piatti si è rotto ha fatto praticamente lo scola piatti ha fatto così sia per 30 e sono caduti giù tutti i piatti tutti i piatti per terra ne ho salvati 4 tutto il servizio bello è andato così questi di questi qua fondi ne ho salvati due incidenti che capitano adesso devo ricomprarli devo ricomprarli tutto il servizio a me piacciono i servizi quelli colorati c'è un piatto verde un piatto rosa un piatto rosso questi picchieri sono della nutella buono 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 benissimo sto guardando senza animo ecco che il cameraman si sta svegliando è più buono 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 suvito buono buono rieciata buono 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 mi piacerebbe prendere la pizza big american e mangiarla bella porcellosa la big american con dentro il mais lo sento eh lo sento il il cameraman lo sento lo sento lo sento eccolo lì eccolo lì mmm no posso rarmi devo parlare piano stavo dicendo stavo dicendo un cavolo di frutti mangio devo andare dal dentista mmm mmm non posso andare avanti con questi denti non posso andare avanti purtroppo no dopo chissà quanto mi sparano quanto mi sparerà la dentista però lo devo fare per forza benissimo ho mangiato tutto il piatto è uno solo se vi è piaciuto il mio video mettete like iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella ciao 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 ciao